buongiorno cari amici benvenuti a questa nuova rubrica con andrea il matematico e in questa rubrica che cosa faremo parleremo di 100 problemi quindi porremo 100 problemi e oggi è il primo dei 100 problemi quindi questo sarà l'iter che seguiremo praticamente io presenterò un problema quindi la traccia di un problema eventualmente darò degli indizi per giungere a questa soluzione in questi 100 problemi analizzeremo praticamente tutti i problemi della matematica quindi ci sposteremo in tutti i rami di questa grande materia e cercheremo quindi di risolvere questi problemi quindi vi darò il problema poi vi darò la soluzione di questo problema al quindi a distanza di quasi una settimana quindi 45 giorni e in questi 45 giorni voi dovrete cervellarvi per tentare di risolvere questo problema quindi quando darò la soluzione quindi darò la soluzione a questi problemi e cercando quindi di tirare in ballo tutta la teoria possibile quindi facendo dei cenni di teoria e andando quindi nel cuore del problema matematico quindi cercando di introdurre tutte le procedure che servono o parte di queste procedure che servono a trovare la soluzione a questi problemi se siete pronti partiamo dal problema numero 1 l'ho intitolato ogni problema avrà un suo titolo quindi le altezze in questo caso e cerchiamo un attimino di presentare questo problema vi darò 4-5 giorni per tentare di risolvere questo problema in modo qualsiasi quindi non vi faccio limiti per la risoluzione del problema potete usare calcolatrici potete usare internet google chiedere al vicino di casa qualsiasi cosa per tentare di risolvere questo problema allora partiamo dal problema numero 1 il problema numero 1 l'ho chiamato le altezze allora adesso ve lo cito prendete pure tutti gli appunti riascoltatevi il testo anche 5 6 7 10 volte ma dovete tentare di risolvere questo problema questi problemi escono dalla logica che abbiamo affrontato fino adesso quindi aprono un nuovo ciclo e un nuovo capitolo allora partiamo quindi dal problema numero 1 l'ho intitolato le altezze lo presento quindi la somma delle altezze di luca e di marco è di 3,45 metri mentre la loro differenza è pari a 15 centimetri sapendo che luca è più alto di marco e che antonella che è il nostro terzo personaggio è più alta di 5 centimetri dell'altezza del più basso tra i due si dica quanto è alto il mobile che antonella ha nella sua camera sapendo che questo è la metà della sua altezza cioè dell'altezza di antonella benissimo cari amici vi lascerò 4 5 giorni per tentare di risolvere questo problema potete farlo in qualsiasi modo ripeto usando calcolatrici usando un foglio e una birro usando tutta la conoscenza matematica di cui avete a disposizione io vi rinnovo l'appuntamento per la soluzione di questo problema intanto tentate di cervellarvi grazie per l'attenzione ad andrea al matematico è tutto se il video ti è piaciuto ricorda di lasciare un like iscriviti al canale youtube per restare sempre aggiornato su tutte le novità e visita inoltre il sito www.andreaalmatematico.it vai nella sezione corsi e scegli il corso più adatto a te adesso ho prodotto corsi per studenti universitari quindi abbiamo il corso di matematica due corsi di finanza uno sugli esercizi di prove vecchie uno proprio che fa vedere bene teorie ed esercizi è il corso di matematica finanziaria vi ringrazio per l'attenzione ci vediamo alla prossima puntata con andrea il matematico e e e e e e e e